Ho dovuto alterare la canzoncina velocizzandolo un po' nel tentativo di non farmi buttare giù il video e speriamo che l'escamotage funzioni. Inoltre ho aggiunto anche dei sottotitoli miei, italianizzando certe frasi dove possibile. Quindi doppio divertimento in questo video con i cinesi Chopstick Brothers, ovvero i fratelli Bacchetta e con i sottotitoli e il commento di Mr. Massi81. Loro comunque sono dei grandissimi, lo si vede dalle espressioni. Ecco, qui per esempio non ho capito bene cosa ha detto. Le famosissime scimmie del Wakao. E beh, ovviamente. Ma dove cazzo sono in un mare fatto di frutta? Ecco, se non sapete cosa sono i boccacicci, poi andatevelo a vedere. Ma comunque fra poco arriva il ritornello che è una bomba, eh. Eccolo che arriva, eh. Bellissimo. Intanto infiliamoci dentro un po' di figa a caso, che non fa mai male. Figa molto casta anche, direi. Che figata. Cioè, ha tutte le carte in regola per essere la hit dell'estate. Altro che Mira Sofia. Peccato che l'estate sia finita. Intanto vai giù di effetti a spirale anni 80. Ma perché sono vestiti costi colori da dementi, mi chiedo io. Ah già, forse perché lo sono. Poi, oh, mi si spezza il cuore dinanzi alla grandissima interpretazione. Qua invece siamo nello spazio addirittura per non farci mancare niente. Fra le stelle, qualche melograno e due squilibrati color pastello. Il balletto però è entusiasmante, non gli si può dire nulla. Come resistere alla tentazione di cantarla? E' impossibile. Intanto ecco due miliardi di persone che ballano entusiasti. Due miliardi di cinesi. Che probabilmente stanno conquistando il mondo. E ci obbligheranno ad adottare questo pezzo come inno mondiale. Prendendo il potere e costringendoci anche a cantare e ballare questa canzone. Ogni mattina presto. Non che mi dispiaccia, ovviamente. Grazie. 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 Grazie.